Un saluto dal Tg della Mobilità, dalle 10 alle 14 un corteo da piazzale di Porta San Paolo raggiungerà a largo Bernardino da Feltre nei pressi della sede del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, percorrendo via Marmorata, piazza dell'Emporio, ponte Sublicio, piazza e via di Porta Portese, via Girolo Menduno e via Le Trastevere. All'iniziativa è prevista la partecipazione di 1.400 persone, previste chiusure e deviazioni o limitazioni per 19 linee di bus e tram. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.